Franco Corbelli è autore di un libro che è anche una fiabba e adesso ci sono delle novità importanti perché questo libro avrà un destino molto particolare e bello. Sì perché è un libro destinato soprattutto al mondo della scuola, io penso alle scuole soprattutto elementari e medie perché è una fiabba, perché è legata alla storia di questo bambino, il piccolo Cissi, che un anno fa proprio, poco più di un anno fa, è sbarcato da solo, lo ricordo, al porto di Corigliano, ma è anche un aspetto piabesco che è quell'incontro che io racconto, come l'ho vissuto con questa cicogna mentre mi recavo al porto di Corigliano e questa sensazione che ho vissuto veramente mi ha condizionato in questa ricerca perché, lo voglio dire, nessuno avrebbe scommesso un centesimo che noi saremmo riusciti a rintracciare i genitori di un bambino, non sapevano neanche se esistevano questi genitori e dove si trovavano. Ebbene ho voluto raccontare questo, questo libro è già da alcuni giorni in rete sul nostro sito, lo stanno scaricando molte scuole, questo mi fa molto piacere, ma per Natale penso che faremo un regalo ancora più bello perché diventerà la favola del piccolo Cissi una fiabba illustrata. La fiabba illustrata, la nuova edizione, sarà proprio non a caso intitolata La favola del piccolo Cissi e della cicogna bianca. Io sono convinto che per quello che rappresenta, per quello che abbiamo raccontato e documentato sul dramma dell'immigrazione, questo libro resterà come una testimonianza molto importante e significativa.